eccoci finalmente si rientra verso casa siamo al nord con questo bel panorama tutto quanto bello bello innevato ogni tanto esce qualche sgrullata di neve dal cielo altrimenti leggera più girellino comunque le strade ragazzi sono pulite pulissime sono fermato a stavolta a milano a dormire andando a direzione sud le strade sono molto pulite come potete vedere tra virgolette una bella 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 giornata di neve tra virgolette anzi dirò se facesse un bello sgrullone di neve sei pure più contento ci accontentiamo di vederla in giro ci accontentiamo di vedere che belle le praterie del nord italia tutte innevate che spettacolo vedete che bello dai buona giornata a tutti buongiorno buon fine settimana se non ci sono cose particolari ci rivediamo lunedì buon weekend a tutti ciao a tutti ragazzi ciao ciao